Il Piano Operativo Sanitario 2019-21 accende gli animi di comitati e sindacati. In occasione della seduta monotematica del Consiglio regionale, la CGL Molise è tornata in piazza. In presidio, il sindacato ha contestato il documento recentemente adottato dal Governatore Commissario della Sanità per il Molise, Donato Toma, ritenendolo inadeguato al territorio regionale. Abbiamo dimostrato un ampio senso di responsabilità e pazienza. Il senso di responsabilità resta, la pazienza è finita. Innanzitutto contestiamo il metodo. Non c'è stata nessun tipo di condivisione con le conferenze dei sindaci, non c'è stata condivisione con noi, con le parti sociali, non c'è stata condivisione nemmeno con l'Università, eppure all'interno del posta, alla pagina 84, c'è scritto che l'Università dovrebbe partecipare alla programmazione sanitaria. Da qui la richiesta di ritirare il piano e avviare nel più breve tempo possibile una concertazione con tutte le parti coinvolte. In questo momento che ritirasse questo piano, perché è un piano a scadenze e a termine, quindi può essere il momento buono per riaprire una stagione concertativa e di coesioni sociali di cui questo territorio ha bisogno. Poi nel merito ci sono delle azioni, anche l'annuncio di posti, 930 posti di lavoro, per fare cosa? Dov'è la programmazione dei prossimi dieci anni all'interno di questa regione? Che cosa si vuole fare? Telemedicina, medicina territoriale? Che cose si devono tenere o chiudere gli ospedali che ci sono attualmente? Si capisce poco. Si assiste per l'ennesima volta al taglio di reparti, al taglio del sistema sanitario pubblico. Noi questo non lo consentiremo per quel che ci è dato operare. Poi un passaggio sui precari della sanità e sulle tanto annunciate nuove assunzioni. Purtroppo, come tutti sanno, all'interno delle amministrazioni pubbliche si accede per pubblico concorso. E in questo caso, chiaramente, vista l'eccezionalità dell'evento pandemico, c'è bisogno di un intervento eccezionale e straordinario. Stiamo lavorando con le nostre strutture nazionali della funzione pubblica CGL. Speriamo di portare a casa qualche risultato perché effettivamente è gente che è stata definita eroe nel corso della dura fase della pandemia, ma adesso è stata dimenticata. Nell'occasione i delegati e i dirigenti regionali e nazionali della CGL hanno anche annunciato le diverse manifestazioni, iniziative e tavole rotonde in programma a partire da questo autunno. Speriamo di portare a casa qualche risultato che ci aiuta a far bene reciprocamente il nostro lavoro.